In questo breve video tutorial di Google Classroom vediamo come fare per inserire uno sfondo personalizzato per ogni classe. Partiamo dal presupposto che le classi siano state già create sulla piattaforma Google Classroom e abbiamo il desiderio di cambiare i vari sfondi disponibili per personalizzare lo spazio. Come vedete talvolta quando facciamo crea allo spazio del corso, Google assegna un tema per default. Ci sono diversi temi che si possono inserire, che Google propone, a volte lo propone in automatico, a volte si può inserire manualmente. Ma se vogliamo andare oltre e inserire uno sfondo personalizzato possiamo andare su iwallht.com metterò l'indirizzo sotto lì il video e troviamo un bel po' di tematiche dei sfondi. Andiamo su Nature che è quella che propone dei wallpapers, dei sfondi molto rilassanti e prendo uno a titolo esemplificativo. A questo punto possiamo fare Edit this wallpaper e possiamo procedere a fare delle modifiche. Come ad esempio posso inserire un testo per personalizzare ulteriormente per chi vuole cambiamo il font possiamo mettere un font vediamo uno molto delicato scelgo questo giusto per far vedere come si potrebbe personalizzare Enter text e scrivo ad esempio scrivo il mio nome ok, Fauzia Teacher Fauzia ok Teacher Fauzia ok e poi faccio Apply una volta che faccio Apply mi viene fuori questa scritta Save lo salvo ci mette un po' per salvare ma nel frattempo vediamo come questo sfondo di questa classe prova chiamato sfondo A si modifica con questi semplici passaggi di questo sito di iwallhd.com attendiamo un attimo una volta terminato il salva possiamo chiudere la finestra e possiamo visualizzare l'immagine dello sfondo personalizzato con il tasto destro possiamo fare salva immagine con nome blocchiamo sfondo così lo so riconoscere quando vado a sfondo 1 e lo salvo sulla cartella di downloads e lo salvo sulla cartella di downloads per comodità e ritorno su ok, questa finestra non ci serve torniamo su Google che mi proponeva questo sfondo che non rilassa per niente adesso vado su carica foto e seleziono una foto dal tuo computer a questo punto vado su download e trovo l'immagine che avevo salvato sfondo 1 faccio apri la immagine viene caricata una volta caricata l'immagine vediamo un po' una volta caricata scelgo dove voglio puntualizzare cioè evidenziare di più se è verso il verde verso il nome una volta che avete trovato la misura che è quella di vostro gradimento possiamo fare seleziona tema del corso e adesso come vedete da come era prima abbiamo uno sfondo delicato e anche personalizzato si poteva spostare la scritta di qua oppure lasciarlo così com'è a questo punto abbiamo modificato lo sfondo di Google Classroom se questo video vi è stato utile troverete anche utili gli altri video tutorial di Fauzi Tutorial Online e per ricevere le notifiche di nuovi video puoi iscriverti a questo canale ci risentiamo alla prossima puntata e ciao da Fauzi a Tutorial Online ciao